Nascosto dietro ad un cespuglio di rovi, non trovo una ragione per questa guerra, che spero termini ad agosto, per andarmene in ferie a Genova con la mia sposa. Buondì! Questa è l'ultima pillola con le regole di dizione. Poi dovrò smettere oppure trovare qualcos'altro da fare. Vedremo gli ultimi casi in cui la O va pronunciata chiusa. Vedremo un verbo che vuole sempre la E chiusa ed il raddoppiamento fonosintattico. Genova va pronunciata con la E aperta. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Inizieremo imparando come va pronunciata la O nelle terminanti in OV più una vocale, come per esempio rovi. Andremo poi a vedere le terminanti in OSCO e OSTO. Infine vedremo un verbo che chiede sempre la E chiusa ed è mettere. E infine la storiella, la commessa e l'alcova. Non perdere nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva... Io come suona male? La campanellina delle notifiche sarai avvisata o avvisato ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Ricorda, parlare decentemente ti farà apparire come una persona migliore. La O delle parole terminanti in OSTO e OSCO, anche nelle forme plurali, va pronunciata chiusa. Dovresti infatti dire POSTO, APPOSTO, CONTRAPPOSTO, AGOSTO, RIPOSTO, NASCOSTO, LOSCO, FOSCO, MOSTO, ESPOSTO e così via. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla parola BOSCO. Oh mamma! La gang del bosco! Sei il diavolo! L'ho lasciata come ultima regola della O chiusa perché ha una montagna di eccezioni. Quando le parole terminano in OVA, OVE, OVI, OVO, generalmente quella O è chiusa. Dovresti infatti dire COVO, ROVI, ALTROVE, DOVE. Giulia? Dove cazzo sei? Ecco la montagna di eccezioni. Dovresti dire ALCOVA, BOVE, TROVO, PROVA, UOVA, APPROVO, COMPROVO, DISAPPROVO, NUOVO. In pratica è una regola al contrario perché sono di più le eccezioni rispetto alle parole che seguono la regola. come in Italia di fatto. Mettere. In questo verbo la E va sempre pronunciata chiusa. Io metto, tu metti, egli mette. Noi mettiamo, voi mettete, essi mettono. In mettiamo la vocale tonica è la A, quindi le altre vocali sono ATONI. Spero tu sia già andata o andato a vedere questo video che ti ho già suggerito la scorsa settimana. Chiudono anche tutti i verbi che derivano da METTERE. Per esempio di METTERE, COMMETTERE, COMPROMETTERE, SOTTOMETTERE e così via e tutte le coniugazioni. Anche i sostantivi che derivano da METTERE chiudono. Si dice commessa, promessa, compromesso e così via. Poi vado a tutte le messe, ma la raccolta dei cereali è la messe. Ed ora un piccolo pensiero da me composto sulle parole che hai imparato oggi. La commessa era carina. Vieni nella mia alcova. Laggiù, dietro a quei rovi, è un posto nascosto. Le dissi, saremo al sicuro e faremo colazione con tante uova. In genere non approvo chi ci prova con questa delicatezza da bove, ma trovo interessante l'idea di fare colazione con sei uova. Lasciami mettere a posto questo mosto, poi si vedrà. Tuttavia, Agosto passò senza che la commessa avesse riposto il mosto. Il che mi fece pensare che quello del mosto fosse solamente un lusco stratagemma per non visitare il mio nuovo cubo. Così, tornai nel posto dove lavorava la commessa e le dissi, «Non è possibile che tu ci metta tanto tempo per un po' di mosto. Dammi una prova del tuo amore». Lei guardò lontano, altrove, dove soltanto gli occhi di una donna possono arrivare. Io, incuriosito dai suoi pensieri, le chiesi, «Dove guardi? Disapprovi? In te si agitano sentimenti contrapposti?» «No!» mi disse lei. «Valutavo che quei rovi avrebbero bisogno di essere buttati». «Così finì la storia tra me e la commessa. Ma mi rifeci poco dopo, quando sentì alle mie spalle un fosco sussurro. Mi lasciai andare. Ora sono felice nella mia alcova, dietro al cespuglio non potato, dirò vi con Andrea il commesso». Trascrivo la storiella sul sito web con la giusta formattazione, così puoi esercitarti con le parole che hai appena imparato. Le parole che hai imparato oggi saranno in grassetto. Il link al video sarà nel primo commento oppure in descrizione. Ancora una volta ci concentriamo sul raddoppiamento fonosintattico. Nello scorso video ti avevo parlato del raddoppiamento fonosintattico in presenza di un polisillabo tronco. Se hai perso il video lo puoi trovare qui. Il raddoppiamento fonosintattico si attiva anche in presenza di un monosillabo forte. Sono monosillabi forti per esempio «è», «già», «da», «ne», «può» e così via. Perché il raddoppiamento si attivi non è necessario però che il monosillabo sia accentato. Infatti si attiva anche in presenza di «a», «che», «chi», «da», «e», «fa», «fo», «fra», «fu», «gru», «a», «o», «me», «ma», «mo», «no», «o» Congiunzione, «po», «qua», «qui», «re», «sa», «se», «so», «sa», «sto», «su», «te», «tra», «tre», «tu», «va», «vu». Volevo dire «vo». Ammazza. Ti sai ripetere? Facciamo così. Scrivo anche quelli nei commenti, va? Ti faccio alcuni esempi. Sarebbe giusto pronunciare che «vuoi», «fa niente», «sta buono» tre volte e basta. Ultima piccola curiosità. La parola «folla» può essere pronunciata con la «o» aperta oppure con la «o» chiusa. Quindi «folla» oppure «folla». Lo stesso dicasi per «matrona» o «matrona». E poi, mentre registravo, ho avuto l'illuminazione. So cosa farò dalla prossima settimana. Ti insegnerò, come peraltro chiesto da alcuni di voi, come correggere alcuni difetti di pronuncia. Io ho avuto la «r» monsha fino a 26 anni. La facevo così. «R» Adesso la faccio così. «R» Meglio. Certo, ci sono voluti alcuni trucchi e un po' di lavoro. Ma si può fare. Con un paio di pinze e una buona saldatrice. Si può fare! Inoltre, siccome non abbiamo finito, proseguiremo con le regole sul raddoppiamento fonosintattico. Se nel frattempo hai domande, qualsiasi domanda, mettila come commento al video. E se hai bisogno di una consulenza personalizzata, scrivimi. Il mio indirizzo mail è sul sito www.lorenzo-trombini.com Come al solito, ti invito a mettere like, a curiosare gli altri video sul canale ed iscriverti attivando la campanellina. E chi è che suono di merda che c'è sta campana? Ma tutto perché? Perrrr! Rrrr! Rrrr! Co! Rrrr!